E allora buonasera a tutti, qui ancora Jam Sport a Casal Palocco sta per iniziare Osteria dei Dragoni, la capolista, però qui abbiamo il presidente Daniele Sbaglio la capolista No, 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 grandi, grande gioco di palla e grande velocità Allora Daniele, un pronostico di questi ragazzi? Guarda, speriamo di vincere come al solito, però comunque vada l'importante è divertirsi E stare insieme in tranquillità, in divertimento, senza eccedere mai Grande fair play, però mi hai detto il dietro le quinte Voglio vincere sempre, inutile che se rendiamo un giro Però con rispetto, certo Ecco il mister, ecco il mister Come no, e allora però mi hai detto il dietro le quinte che anno nuovo Anno nuovo mi ritroverete anche in campo, quindi per il momento mi diletto a stare vicino alla squadra A fare una sorta di presidente e tutto Insieme al mio collaboratore e allenatore Daniele Scardella E poi l'anno nuovo ci rivedremo tra i campi, siamo in preparazione Grande, quindi in bocca al lupo Daniele, a voi la lì Grazie a voi